Ciao ragazze, oggi vi voglio parlare di Pure Relash, ovvero è un siero con tornocchi, quindi che va applicato nella parte sottostante del nostro occhio. È un siero che ci aiuta a idratare, nutrire, levigare comunque questa pelle molto delicata. È un prodotto che va a rafforzare la barriera lipidica della nostra pelle, ci aiuta a proteggere le nostre cellule dai radicali liberi, quindi comunque ci aiuta a non invecchiare precocemente in questa zona del nostro viso. In più è un prodotto che comunque va ad aiutare la nostra parte dell'occhio qua sottostante a non avere le borse, ci preserva comunque quell'effetto scuro opaco che ci dà la borsa o comunque che ci dà l'occhiaia. Quindi tutte le sere applicate sul nostro viso con un leggero massaggio, proprio picchettando appena appena, ovviamente parliamo sempre di una pelle pulita, detersa e ben asciutta in modo che il nostro siero possa penetrare in profondità nella nostra pelle. Quindi dal momento che vogliamo una parte sottostante all'occhio più levigata, più idratata, ricordiamoci di questo Pure Relash e vedremo ottimi risultati. Grazie ragazze, alla prossima!